Febbraio rosso o verde? È iniziato un nuovo mese per i mercati delle criptovalute e la domanda è proprio questa. Dopo il rialzo importante che abbiamo visto a gennaio, iniziato dai minimi di novembre, ci sono un po' di domande sul fatto che questo rialzo possa proseguire o meno. Vi faccio vedere quello che è una super tabella dei ritorni di bitcoin a livello mensile e nel mese di gennaio 2023 vedete che c'è stato un incremento di circa il 40%, uno dei più alti ragazzi, dall'ottobre del 2021. Cioè solo ottobre del 2021 aveva fatto più 40%, ma in generale è uno comunque dei rialzi legati ai livelli mensili molto molto alti. Se infatti andiamo anche indietro nel tempo, nella bull run del 2020, soltanto due mesi, novembre e dicembre, hanno avuto un'app migliore di gennaio 2023. Ancora una volta bitcoin stupisce perché gennaio in realtà è solitamente un mese ambiguo, quindi un po' laterale, poche volte aveva fatto rialzi importanti. Nel 2020 appunto all'inizio della super bull run e poi nel 2013 e 2011 ragazzi, quindi veramente molto tempo prima, dieci anni prima, per il resto aveva quasi sempre fatto candele rosse. Invece, questa volta stupisce, anche per via del fatto che queste analisi di serie storiche un po' lasciano il tempo che trovano, lo diciamo spesso, ma è ovvio che sia così perché comunque non c'è una ripetitività statistica ovviamente. Adesso dobbiamo andare a comprendere quello che invece farà nel mese di febbraio, che come vedete è quasi sempre verde tranne tre mesi, insomma, degli anni di bitcoin iniziali dal 2011. Va bene, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a rispondere appunto a questa che è una problematica comune in questa fase, cioè il fatto che magari alcuni investitori che sono riusciti a prendere questo rialzo iniziato dal mese di novembre, adesso si stanno proprio chiedendo se è il momento di uscire. Take profit sì, take profit no, dopo questa fase rialzista. Ci sono due analisi che andremo a utilizzare in questa fase ragazzi, perché sono due analisi che ci daranno una risposta a questa domanda non del tutto coerente, già ve lo dico ragazzi, però solo analizzando i dati possiamo tirar fuori quello che è una soluzione di natura oggettiva e andare a vedere gli scenari possibili da qui per il mese di febbraio. Vi dico già da subito che bisogna fare una specie di disclaimer, cioè ricordarsi che questi tipi di risposte a queste domande sono legate al vostro orizzonte temporale. Se ragionate in termini di trading intraday bisogna ragionare in un modo differente. Nel video di oggi quello che andremo a fare è andare a ragionare su orizzonti temporali di medio-lungo periodo, sostanzialmente quello che definirei un holder intermittente, così come l'ho definito in uno dei miei moduli sulla gestione dei portafogli cripto, o, potrei dire che è un holder un po' investitore intelligente, lo potremmo anche chiamare così, cioè medio-lungo periodo. Quindi cosa deve fare un investitore nel medio-lungo periodo nel mese di febbraio, che cosa deve aspettarsi, e non mi rivolgerò in questo video alle analisi di natura intraday o comunque di pochi giorni, quelle poi le faremo lunedì prossimo come sempre. Allora, iniziamo appunto a ragionare sia di analisi tecnica che di analisi ciclica. Vediamo quelle che sono le due analisi contrapposte e poi andiamo a rispondere alla domanda principale, cioè cosa dobbiamo aspettarci appunto a febbraio. Iniziamo analizzando quello che è una chart che io adoro, ragazzi, è la chart del mese. Iper lunga questo time frame, quindi time frame su bitcoin mensile, che cosa ci va a indicare? Iniziamo dall'analisi tecnica. Allora, l'analisi tecnica ci dice in maniera molto evidente che siamo a contatto di un livello di resistenza stratosferico, livello di resistenza di cui parliamo praticamente, ragazzi, ormai veramente da un sacco di tempo, 25-26 mila dollari, ed è corrispondente con il touch della media mobile. Questa è una media mobile diversa da quelle solite, perché è una media mobile impostata sulla struttura dei 12 mesi, quindi dell'annuale di bitcoin. Questa è una media mobile a 12 periodi mensili, quindi significa che la media dei prezzi degli ultimi 12 mesi di bitcoin, ed è intorno proprio ai 25 mila dollari. Non è soltanto una questione di media mobile, questo livello di resistenza tecnica per bitcoin, ma è anche una questione legata al livello ciclico, che sono i precedenti massimi, quelli di agosto, importantissimi, che segnano 25-2. Io, ovviamente, come ben sapete, mi sto alla larga da considerare questi prezzi, soprattutto sul settore cripto, come giusti e al singolo dollaro, ma vanno considerati come aria di prezzo, per questo vi sto dicendo 25-26 mila dollari, perché, insomma, se avverrà il breakout di questo livello, al 100% saremo in un nuovo ciclo annuale dal minimo di novembre, e soprattutto avremo la possibilità di continuare magari a fare una app, poi magari, se succederà, andremo a vedere quali livelli eventuali di resistenza. Quindi, a livello tecnico, questa è la resistenza main. Sotto questo livello tutto è possibile, può anche tornare a crashare e fare un nuovo minimo rispetto a novembre, ragazzi. Questo ve lo dico in maniera molto chiara. Sopra non è che non puoi tornare indietro, però, ovviamente, a livello di probabilità, se anche facesse proprio un comeback, no, un ritorno indietro per andare a breccare i minimi di novembre, lo può fare, però abbiamo molta e più probabilità che magari ci metta molto tempo, quindi magari c'è un anno sei mesi, insomma, o un anno se fa, appunto, una cosa del genere, però, ovviamente, siamo più protetti. A livello di supporto, questo è il supporto main per il mese di febbraio, cioè dalla zona dei 20.005 alla zona dei 21.003, circa. Questa zona qui. Tutta questa zona che corrisponde anche al touch, vedete, dalla media, invece, quella blu, che la media ha sei mesi, quindi il semestrale di Bitcoin. Allora, questi sono i dati da un punto di vista di analisi tecnica. Andiamo a vedere, invece, quelli che sono i dati da un punto di vista di analisi ciclica su un time frame così lungo. L'unico dato che possiamo andare a controllare da un punto di vista di analisi ciclica è questo maxi ciclo, che poi ci indicava la possibilità che, appunto, proprio in novembre, fosse analisi chiuso un ciclo importante di Bitcoin e un ciclo di natura, sì, annuale, ma nel caso del time frame mensile, come vedete, 1.400 giorni, questo è il ciclo dell'albing di Bitcoin, tutti, insomma, avevano mostrato un milione di volte. Teoricamente, ottobre, novembre, era la zona possibile di chiusura di questi cicli, di questo ciclo maxi da quattro anni, che ormai seguiamo veramente il precedente ciclo quadriennale di Bitcoin, l'abbiamo fatto praticamente insieme qui sul canale, ragazzi, quindi è il ciclo main delle criptovalute, questo qui è evidentissimo, tra l'altro, con strutture a tre cicli, ve li faccio vedere, giusto per gli amanti di questa fase qui, quindi strutture di cicli alternari. Allora, qui ci sta benissimo anche la possibilità che abbia fatto la chiusura del ciclo manuale, questo lo abbiamo detto, quindi dal punto di vista ciclico, se questo grafico viene confermato, se questa view, questo conteggio ciclico viene confermato, in prossimi mesi potrebbero avere dei down, ragazzi, però ovviamente leggeri, perché saremo comunque in una fase di up, dovuto proprio all'inizio di questa fase ciclica. Attenzione a pensare che facciamo poi la V, così ve l'ho detto più volte, può capitare, però è molto poco probabile, la cosa più probabile è che il mercato oscilli in una struttura cammellata, andiamo così per un tot di tempo, andatevi a vedere il mio video sulla possibilità del cammello per il prossimo anno almeno. Passiamo invece al secondo grafico che ci dà una risposta più da vicino, cioè andando a vedere quelli che sono non cicli lunghi come quello che abbiamo visto finora, ma cicli un po' più brevi, cioè sempre questioni di trimestrali e semestrali, quindi cicli di medio periodo per quanto riguarda il mercato. Utilizziamo a questo punto quindi il time frame settimanale, un time frame fantastico, insomma, anche a livello operativo, mentre quello mensile a livello operativo è un po' più, lascia il tempo che trova, allora ragazzi, però questo invece settimanale è una bomba anche a livello operativo per chi non vuole fare trading. Iniziamo con la questione di natura resistenze, beh, evidente ragazzi, sempre la stessa, inutile che ci ripetiamo, la resistenza è solo di carattere, in questo caso, tecnico sul prezzo, quindi massimi di agosto di 2022, ed è il livello di resistenza principale, poi al di sopra del quale potremmo addirittura andare a fare dei touch di questa zona 29-28, corrispondente a possibili target anche dell'anno, ma di questo ne parliamo poi, ne parleremo se dovesse fare questo break. Non prima, anche per me, facciamo così, scaramanzia ragazzi, non ho il bitcoin qui con me perché sono a Dubai in questo momento, non visitavo la città perché non l'avevo mai vista, sto un po' di giorni qui e non ho il bitcoin in gold, non l'ho portato, però ho trovato dove li vendono, insomma, magari lo compro. Allora, questa zona qui, poi da un punto di vista invece di supporti, evidenzia dei livelli di supporti che sono molto interessanti, e sono questi qui. Già i livelli di supporto di questa fascia, scusate, questo time frame, di questo grafico, di questo time frame, devono essere considerati perché già siamo su una fase operativa, un time frame operativo, e questo è un livello di supporto importante, 21 a 4, e poi abbiamo, diciamo, la struttura più giù, 20 e 2. Attenzione perché non è detto che il mercato, anche in una fase di chiusura, che adesso ne parliamo poi con la questione ciclica, perché mentre l'analisi tecnica vi dice only long, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, non c'è stato mai un segnale di inversione da novembre, in pratica, di nessun tipo. Cioè, quindi da qui in poi, il mercato non ha mai dato un segnale di inversione, mai, neanche una volta. Quindi l'analisi tecnica vi dice only long, non c'è nessuna posizione da prendere, e la ciclica che un po' ci dà qualche noia, in questo caso, e lo andremo a vedere. Quindi teoricamente, poi ci sono anche dei livelli di supporto più piccolini, che sono per esempio questo qui, in zona 22 e qualcosa, quindi 22, che più o meno però ha già toccato, per esempio già solo oggi a 22,5, in questa settimana, scusate, non oggi, l'ha fatto 22,5, ragazzi, in questa settimana. Quindi più o meno, insomma, vedete, sono dei livelli di supporto molto facili da toccare per Bitcoin, 22,2, 22. Insomma, sono molto semplici questi, anche per il mese di febbraio. Passiamo invece alla ciclica, che è quella un po' che ci dà le noie, perché l'analisi tecnica dice only long, ma la ciclica dice allerta meteo. Perché? Perché dall'inizio di novembre, iniziata, sicuramente una fase ciclica, che è un trimestrale barra semestrale. Su questo ci sono un po' pochi dubbi, diciamo, non sappiamo se è un annuale nuovo, sembrerebbe così, ma non lo sappiamo ancora, però da un punto di vista di trimestrale-semestrale, quello lo sappiamo già. Quindi cosa significa, ragazzi? Che probabilmente Bitcoin sta andando a creare quello che è un ciclo da circa 160-180 giorni, più o meno i soliti cicli di Bitcoin, cioè o un semestrale o un doppio trimestrale, poi consideratelo un po' come volete. La struttura attualmente sembra ancora una volta di natura ternaria. Questo indica che probabilmente nei prossimi giorni potremmo avere la chiusura del cosiddetto ciclo mensile, che vi dicevo, e poi andare a vedere quello che succederà con l'ultima fase, che è proprio quella che dovrebbe andare a bucare i 25-26.000. Oppure, ragazzi, se il mercato non ce la fa a bercare questo livello e va direttamente a chiudere questo ciclo semestrale, non è buono, perché questo chiude verso aprile-maggio, e la questione è, se non brecca qui, verso aprile-maggio, può lateralizzare o scendere, cioè non è che abbia tante altre alternative. Quindi, in sostanza, dopo la chiusura di questo ciclo mensile che vedremo nel prossimo grafico, un'analisi ciclica ci dice fai attenzione, sportemente, attenzione, perché se il prossimo ciclo mensile che riparte non ha la forza di salire sopra 25-26, è pericolosissimo, in quanto poi possiamo andare a chiudere questa struttura ciclica e quindi da lì in poi il mercato potrebbe avere un atteggiamento laterale o addirittura di bassista, perché nulla vieta che si possa andare, per esempio, a un touch di questi che sono i livelli di supporto in questa zona, è un po' pesante, lo ammetto, però in quel caso sarebbe 20.000 dollari, è raggiungibilissimo, magari entro un paio di mesi, se non più. Ricordo a tutti che se invece da qui inizi a crashare verticalmente resta valida l'ipotesi dell'annuale ancora da chiudere iniziato a giugno, perché solo sopra questo livello eliminiamo l'ipotesi 1 annuale a giugno, sotto questo livello non possiamo eliminarla, quindi lì dobbiamo tenerci con due piedi in due scarpe, non c'è nessuna soluzione oggettiva. al di là delle opinioni personali ragazzi, io vi parlo sempre di questioni oggettive, molti non capiscono il concetto, dici cosa pezzo io, è un discorso, cosa dice il dato di mercato oggettivo è un altro. Passiamo all'ultimo grande grafico che è quello invece che ci dà un risvolto operativo nel breve, non brevissimo, ma breve periodo, diciamo qualche giorno. Questo è il ciclo attuale da 90 giorni in una specie di trimestrale, ovviamente può essere anche più corto, può andare anche da 70 e qualcosa intorno ai 90, insomma più o meno i cicli hanno molta volatilità sui tempi ragazzi, quindi non state lì a guardare queste cose, è un'area temporale, non importa il giorno preciso, ricordatevi, lo so che viene sempre molto la voglia di avere un dato oggettivo per sentirsi più sicuri alla fine nelle cose, però questo tipo di analisi ragazzi la possiamo imbrigliare in un dato oggettivo, ma dovete starvi attenti perché non è la sua natura, quindi è come se andiamo a chiudere, non so, vogliamo forzare, no? Una forte energia a stare all'interno di una scatola, sì, si può fare, però poi iniziamo a vedere un sacco di errori, insomma eccetera, quindi fate molta attenzione, questo è personale, quindi ognuno di voi può scegliere se avere dei dati precisi, l'importante è che riuscite a operare poi nel modo giusto e a fare gain che poi è l'obiettivo insomma di queste analisi al di là. Allora, questa struttura ci dice che entriamo nella fase di chiusura del ciclo mensile nonché anche trimestrale di Bitcoin e il grafico, se vi ricordate, è quello FAD FOMO, che vi avevo mostrato, FAD sotto questa linea, FOMO, sopra questa linea, adesso so, ma FOMISTI, ma dovremmo dire, sopra questa linea qui. Va bene, allora, cosa, questa è una fascia non di prezzo, ma temporale che vi sto indicando e questa fascia temporale inizia proprio dal massimo di ieri, ve lo garantisco, proprio così lo so, è un caso che sto girando questo video in questo momento, è assolutamente un caso, però è proprio dal massimo di ieri che è iniziata però la fase temporale, quindi da qui in poi verso la fine del mese di, siamo verso la fine della settimana, prima settimana di febbraio e che poi inizia l'altra e abbiamo la questione legata ai cicli mensili che vi dicevo in chiusura intorno al 6 barra 10, no, in quella zona lì, però possiamo anche prolungare, vedete, da qui inizia da, proprio da oggi domani, possiamo anche prolungare se dovesse essere molto lunga questa chiusura fino addirittura al 17 di febbraio, ovviamente io non credo in una fase di bassista vertiginosa proprio tutti questi giorni, magari lateralizza, quindi se dovesse anche fare una cosa del genere, però io mi starei attento proprio in questa struttura e la fase ciclica ci dice fai attenzione ad un ribasso in questa zona e l'analisi tecnica mi dice che se noi qui chiudiamo poi una struttura su un minimo poi lo andremo a vedere ovviamente nei prossimi grafici, quello che mi preme fare è attendere un'inversione long per andare long, ragazzi, io ve lo dico, continuo ad andare long in quella fase ma solo ed esclusivamente se ci sarà un'inversione poi long quindi se il mercato dovesse chiudere con una barra di congestione neanche esco resto nelle mie posizioni quelle attuali se invece crasha i miei sistemi di training mi fanno uscire probabilmente in questa zona dopodiché io non entrerò long fino ad una inversione devo vedere un'inversione non vado in buy the dip questo ve lo dico o forse se lo faccio solo su un coin insomma per fare speculazione ragazzi ma non grossi investimenti insomma con questo è quello che vi sto dicendo non mi seguite non copiate nessuno non solo me nessuno fate le vostre analisi imparate a ragionare con la vostra testa perché non esiste nessun modo alternativo in quanto ognuno di noi ha un suo modo di operare ognuno di noi ha una sua logica un suo mindset e deve rispettare quella che è la propria logica operativa ecco perché non potete copiare nessuno ragazzi ed è vera questa frase c'è magari poca differenza eccetera però dovete ragionare e applicare le strategie che sono per voi sostenibili soprattutto a livello psicologico quindi io vi dico cosa faccio ma non copiate anche perché poi magari sui video youtube non aggiorno le posizioni quello lo faccio sempre in academy quindi qualcuno mi dice Mauro ma tu dici eh però non l'hai skin non lo scrivo su youtube ragazzi io scrivo tutto quello che faccio in academy il giorno stesso che lo faccio il minuto dopo quindi lì è tutto pubblico ci sono centinaia di trader quindi ovviamente poi lo dico dopo sul canale youtube perché l'ho scritto lì quindi non è che eh c'è da inventarsi altre cose allora eh quindi fate attenzione appunto a questa zona la struttura ciclica ci mette in allerta per i prossimi giorni per questa fase qui l'analisi tecnica vi dice only long non è stata fatta alcuna tipo di inversione sta a poi a questo punto decidere se un take profit in questa fascia di prezzo può essere valido attendendo poi un'eventuale eh fase di eh ribasso del mercato di bitcoin e poi decidere se rientrare a quel punto sarete molto forti perché se il mercato scende veramente intorno a zona 21 e qualcosa poi aspettate il rientro magari rientrate più o meno agli stessi prezzi niente di che ma siete fuori dalla volatilità altrimenti se il mercato poi vi rema contro ragazzi e brecca i 25 dovete rientrare a prezzi più alti questa è la scelta che dovete fare in questo momento ed è appunto come dicevo personale cioè se uscite in questo momento e attendete la chiusura di questi cicli se avvengono in maniera profonda poi vi da la possibilità di rientrare altrimenti se vi parte un'app come ha fatto ieri e l'altro ieri vi lascia fuori dal campo quindi quello dipende dalle vostre logiche di investimento io personalmente come vi ho detto sto ancora fermo non mi ha dato nessuna inversione e lascio lavorare le mie macchine i miei trading system che sono lontani ancora da invertire però se dovesse esserci qualche giorno importante negativo probabilmente escono dalle posizioni e uscirò anche perché ho guadagnato tantissimo in questa fase quindi preservo il capitale e il profitto fatto poi attenderò un'inversion altrimenti non mi muovo ragazzi perché preferisco fare così io sono ho diventato un po' un trader investitore più cauto non faccio meno operazioni aspetto più il mercato sono paziente sto lì con la canna da pesca e poi attendo di vedere cosa cosa fa il mercato va bene per oggi è tutto ragazzi fatemi sapere però nei commenti cosa farete voi qual è la vostra idea proprio di questo mese di febbraio vi ricordo che se febbraio dovesse essere deboluccio questa fase potrebbe poi magari garantirci un buy the dip su alcune crypto interessanti ma solo lo ripeto dopo un'eventuale inversione almeno io farò così per oggi è tutto buon weekend e noi ci rivediamo nel video di lunedì ciao